È stato presentato ieri alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nello spazio riservato alla Regione Veneto, un'antecipazione del film lungometraggio Rosso Istria, regia di Maximiliano Erlando Bruno, realizzato con il sossegno della Regione Veneto, del Comune di Padova e di quello di Treviso, in collaborazione con Cultuac TV. Il film racconta il dramma vissuto dalle popolazioni italiane di Istria e Dalmazia a seguito dell'armistizio dell'8 settembre 1943, attraverso la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana barbaramente violentata e uccisa dai milizi titini. Alla presentazione Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale, accompagnato dall'attore Franco Nero. Un ringraziamento a Franco Nero per la partecipazione a Rosso di Istria e anche per la figura che interpreta del professore che deve dare consigli in un momento sicuramente difficile e particolare della storia di quelle terre. Niente, io l'ho già detto nella conferenza stampa che ho accolto molto volentieri l'invito sia del produttore che del regista di far parte di questa bellissima storia. Mi sono messo, come ho detto, umilmente a servizio della storia e sono molto contento. Grazie. Grazie. Grazie.